Nel tardo pomeriggio di giovedì 8 luglio una pianta è crollata, sempre a causa del maltempo, in località Bellavista, Largo Europa, ad Ivrea. Cadendo, l'albero ha portato con sé un palo della luce a bassa tensione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici Enel. Un gruppo di case, alimentate da quella linea, sono rimaste momentaneamente senza corrente. I tecnici Enel si sono attivati per riattaccarla in modo provvisorio. Domani interverrà una ditta per rimuovere la pianta e il palo e si procederà con il ripristino definitivo.